Ed eccoci alla pagina sportiva. È stato effettuato dalla Lega Pro il sorteggio dei quarti di finale per l'accesso alla finale nazionale per la Serie B 23-24. Il sorteggio ha messo di fronte Foggia e Crotone. I rossoneri di Dele Rossi arrivano al terz'ultimo atto della stagione dopo la vittoria in rimonta per 3-0 sull'audace Cerignola all'andata 4-1 per i gialloblu Ofantini. I calabresi, vice capolista delle Girone C, aveva concluso la stagione regolare a quota 80 punti con 23 vittorie, 11 vareggi e 4 sconfitte. Gradi andata il 27 maggio, il ritorno il 31. Intanto questa sera all'Olimpico di Roma finale della Coppa Italia di fronte Inter e Fiorentina. Entrambe arrivano al confronto diretto dopo le ultime sfide di campionato. Gli Nerazzurri che avvarono da Napoli per 3-1 e i Viola che avevano pareggiato 1-1 a Torino. Ma con la sfida per le prossime coppe europee ancora tutta aperta.